Io mi chiamo Massimiliano Aguanno, ho ideato il sistema di lavoro Finestra Smart, faccio serramentista e sono operatore termografico di secondo livello, secondo la 1, 97, 12, quindi sostanzialmente sono abilitato ad utilizzare la termocamera. Ho il massimo livello del cosiddetto patentino, quindi EQF4, ho frequentato il corso progettista, corso base e sono specializzato in installazione di serramenti ad alte prestazioni acustiche. Ho scritto una guida fondamentalmente per i progettisti con cui lavoro e i miei clienti per cercare di offrire informazioni. Questo è un pochettino il punto, cioè diffondere cultura nel serramento perché ce n'è un gran bisogno in edilizia. Vi ringrazio e ovviamente sono a disposizione per chiarimenti e approfondimenti. Grazie e ciao a tutti. Grazie a tutti.